Inizierà domani, sabato 15 giugno, l'attività Mare e Laghi Sicuri della Guardia Costiera. Questa operazione, da più di 30 anni, vede donne e uomini della Guardia Costiera al fianco di bagnanti, di portisti e subacquei che scelgono le coste, i mari e i laghi italiani per il proprio svago. Particolare attenzione rivolta alla tutela dell'ecosistema marino e dell'ambiente. A livello nazionale saranno impegnati circa 300 uomini e donne della Guardia Costiera, 400 mezzi navali e 16 mezzi aerei. Per i comandi territoriali della Direzione Marittima delle Marche è previsto l'impiego di 20 militari a bordo delle unità navali, 15 militari controlleranno le spiagge e 20 militari saranno impegnati nelle sale operative. Consiste nel massimo impegno che il core business è nostro durante la stagione turistico balneare che dura tre mesi e quindi la nostra concentrazione pur rimanendo immutate le funzioni che sono molteplici proprio sull'aspetto della tutela assoluta di chi deve godere in serenità della stagione turistico balneare. Tanto utenti balneare quanto anche tutte quelle che sono le attività ludiche del diporto che vanno nella fascia litorale, quindi nell'interfaccia tra le spiagge e la prima fascia costiera dove si svolgono le attività marittime. Il compito primario della Guardia Costiera sarà coordinare le emergenze in mare al fine di garantire l'ordinato e il sicuro svolgimento delle attività nautiche e balneari con l'obiettivo di salvaguardare la vita umana in mare e prevenire comportamenti imprudenti e pericolosi. Il tutto proprio per far sì che si svolga in massima serenità l'attività del turismo in modo particolare con lo sguardo alla salvaguardia e quindi alla sicurezza principalmente delle persone affinché non si verificano incidenti, si prevenga all'ordinato svolgimento ma anche a quella che è la tutela dell'ambiente piuttosto che effettivamente quella delle risorse ittiche pure con maggiori controlli nei punti di ristorazione proprio perché c'è molta concentrazione di attività. È chiaro che i fini di settimana saranno molto impegnativi in questo periodo ancora di stagione incipiente ma poi nel momento in cui parte dal 20 luglio più o meno al 20 agosto l'attività sarà in tutte le giornate senza distinzione fra feriali e festivi proprio perché la massa antropica cresce e di conseguenza trascureremo qualcosa pur di essere presenti in maniera continua e sistematica con le tre province. L'operazione Mare e Laghi Sicuri nel corso di questi anni ha registrato un aumento del rispetto delle regole da parte dei turisti. Sono poche infatti le sanzioni rilevate negli ultimi anni. Quello che vedo è che la cultura della gente che va per mare è completamente cambiata rispetto a un tempo. C'è molto rispetto quindi c'è un'autoregolamentazione di chi fruisce della stagione turistica tanto che siano stranieri quanto che siano italiani ma più importante diciamo più forte la parte diciamo come dire antropica italiana dove noi vediamo che a fronte di migliaia di controlli si rilevano sanzioni pochissime. Questo diciamo vuol dire che si è acquisito un senso della disciplina e del rispetto delle regole ma soprattutto del rispetto di se stessi e degli altri che non può che migliorare perché il trend è veramente diciamo in questo senso.